Cominciamo con una notizia certo inaspettata. L'ok che doveva essere quasi certo per questa mattina, l'ok per dare il definitivo avvallo all'operazione Florenzi da parte della proprietà, non è ancora arrivato. Siamo, mentre sto registrando questo video, intorno alle 13.30-14 ma non c'è ancora l'ok dalla proprietà. Il giocatore doveva arrivare oggi in treno da Roma ma è ancora lì, che aspetta con la valigia in mano. Io ho messo il titolo l'ok non è ancora arrivato, appena arriverà cambierò, l'ok è arrivato sul mio sommario. Quindi questa è la situazione per quello che riguarda Florenzi. Il giocatore ci sarebbe l'intenzione da parte della proprietà, dei dirigenti, dello staff tecnico di averlo a disposizione per il match contro la Sampdoria, però sembra ormai una lunga favola questa, una lunga storia questa di Florenzi che non è ancora dunque partito per Roma. Lo davano tutti per partito per Roma oggi con visite mediche domani, invece anche coloro che dicevano fatta, 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 la firma non c'è ancora. Ci sarà, penso proprio che ci sarà, ma adesso non ancora. Intanto passiamo già a un altro nome, quello di Bakayoko. Bakayoko abbiamo notizie nuove questa mattina perché il giocatore, il giocatore sappiamo che ha un contratto in scadenza nel 2022. Un contratto in scadenza nel 2022 comporta che non potrebbe esserci il prestito, Milan cerca il prestito di Bakayoko. Allora, ieri vi ho detto che non sarebbe stato un ostacolo perché si sarebbe aggirata la formula e la formula verrà aggirata in questo modo. Come sempre, come è già successo con Giroud, il Chelsea sottoporrà, anzi farà valere un contratto unilaterale per cui il giocatore la scadenza la porta al 2023. Così il Milan lo può avere in prestito fino al 2022. Quindi trovata anche questa formula per evitare i problemi con Bakayoko. Bakayoko ormai, come vi ho detto, è il giocatore dei prossimi giorni e dunque sarà lui il giocatore che potenzierà il centrocampo. Ieri sera, vi ho già detto e lo ribadisco, l'ho ribadito questa mattina e lo dico anche adesso, che per quello che riguarda Adli, io che dicevo uno potrebbe eludere l'altro, invece c'è sempre la possibilità che i due giocatori possano arrivare entrambi Adli nel finale di mercato se il Bordeaux scenderà circa le sue, per quello che riguarda le sue pretese. Un vago accordo con il giocatore c'è, un vago contatti già che hanno portato, ripeto, a un accordo e dunque il giocatore dovrebbe, nel caso che il Bordeaux scenda dalle sue pretese, dovrebbe arrivare a fine mercato. Bakayoko viene ritenuto un giocatore fondamentale, un giocatore importante per il Milan, per il centrocampo del Milan, che potrebbe diventare veramente un centrocampo di grandissimo, di grandissimo livello. Adesso la novità della mattina, la novità della mattina. Già ieri si era sparsa questa voce che oggi diciamo è aumentata e ci sono dei particolari. Parliamo di un giocatore che sembrava un grande talento, che si è ancora inespresso a causa dei tanti infortuni e parliamo ovviamente di Pellegri, Pellegri giocatore del Monaco. Il Monaco vorrebbe cederlo, è un giocatore in esubero per la squadra monegasca e allora il Milan ci sta pensando. Ieri sembrava una operazione assolutamente improbabile. Oggi ci sono già notizie un po' più certe, mi dicono tenetela viva perché vi ho sempre detto che il Milan avrebbe preso un terzino, un mediano, il famoso 7-10 e davanti la punta giovane come ultima soluzione. Visto che il Monaco vuole cedere il giocatore, potrebbe anche esserci questa soluzione anche per Pellegri che potrebbe essere la famosa terza punta, non certo come 7 o 10, come terza punta giovane di cui vi ho sempre parlato. Come potrebbe essere aggirata la situazione, rinnovo del Monaco per un altro anno per Pellegri e prestito che il Milan eserciterebbe, anzi che richiederebbe prestito, poi per vedere i diritti, gli obblighi sono cose più particolari, però indubbiamente potrebbe essere lui la terza punta giovane. È un giocatore, ripeto, di talento che però gli infortuni hanno completamente bloccato. È un 2001, mi sembra, quindi ha tanto a venire davanti, chiaro che è una scommessa. Con questi nomi, Florenzi, che ripeto non c'è ancora l'ok, ma dovrebbe arrivare a, speriamo, nelle prossime ore, con Baccaiocco con la punta giovane, il Milan e forse con Adli avrebbe chiuso questa sontuosa campagna acquisti. Ma per essere sontuosa, per essere una campagna veramente di livello, per una campagna che senza nessun dubbio può certamente aver reso la rosa di Pioli più forte, più competitiva, più adatta a sostenere le lotte, le sfide in Champions League e in campionato, manca sempre il grande giocatore, il 10-7, il 7-10. Sarà questo giocatore uno dei prossimi acquisti e rimane sempre il discorso del Mister X, però rimane sempre la volontà del Milan di trovare un grande, anzi ha trovato, perché vi ho sempre detto che ormai si tratta solo di definire l'ingaggio con il giocatore, di trovare un accordo per poi completare questa campagna acquisti, che, alla quale mancava, ora il Milan ha due, tre portieri, Florenzi quando e se, ma quando arriverà, Balloture, Teo Hernandez, quattro centrali come Gabbia, anzi cinque, Gabbia, Calou, Lucchier, Romagnoli e Tomori. A centrocampo addirittura quattro, cinque con Krunic e forse sei con Agli. Sulla fascia di destra arriverà il famoso giocatore che si alterna col 10, col 10, col 7 e dunque anche lì ci saranno giocatori importanti, ci sarà ricambio davanti Leao, davanti Rebic, là davanti Giroud, Ibra e probabilmente forse Pellegri e dunque sarebbe un grande Milan, ma serve il 10 barra 7, il 7 barra 10, per togliere ogni barra e ogni dubbio. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi anche a Youtube di Carlo Pellegatti.